Benvenuti a questo secondo appuntamento del ciclo La guerra degli italiani. Con grande piacere vi introduco brevemente il collega e amico Fulvio Camarano, di cui dirò poche cose, perché essendo un collega per una sorta di conflitto di interessi, essendo un amico non vorrei esagerare nel sottolineare le attività, i titoli eccetera. In ogni caso Fulvio Camarano insegna storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna e è uno degli esponenti diciamo anagraficamente più anziani, se permette, di quella che per noi storici contemporanisti italiani e solitamente viene denominata come scuola bolognese della nuova storia politica italiana. Di cosa si tratta? Si tratta di un gruppo di lavoro sostanzialmente che è nato più di vent'anni fa, torno alla figura di Paolo Pombeni, e che ha raccolto in molti anni di attività vari studiosi che nel frattempo appunto sono cresciuti e hanno compiuto vari percorsi di ricerca. Io stesso mi sono laureato con Pombeni appunto molti anni fa, quindi sono particolarmente legato a questo ambiente scientifico. E il significato diciamo innovativo più importante prodotto da questo gruppo di ricerca è stato quello di introdurre nell'ibattito italiano una serie di elementi che erano da tempo assenti, in particolar modo la metodologia, lo sottolineo perché ritorna molto anche nelle cose che ha fatto Camarano, della storia comparata, che è un aspetto oggi al tempo pionieristico, che oggi è essenziale nello studio della storia contemporanea, che io stesso applico in molti campi di ricerca. Camarano si è in particolar modo orientato sin da subito verso lo studio dell'Italia liberale e del liberalismo europeo. A questi temi è dedicato la maggior parte dei suoi lavori scientifici, studiando sia il contesto italiano dall'unificazione fino all'età giolitiana e sia come caso appunto di comparazione il conservatorismo inglese, quindi ha fatto vari, quando era più giovane, ha avuto varie esperienze di studio fuori Italia, da Oxford in particolare. E' stato attorno a questa rivista, a questo gruppo, è nato più di vent'anni fa, nacque appunto una rivista, ricerche di storia politica, di cui Fulvio Camarano fu uno dei fondatori, è stato poi anche direttore e molte delle innovazioni introdotte da questo gruppo hanno avuto nella rivista, ovviamente in questa rivista, uno dei veicoli più importanti di diffusione nel mondo scientifico italiano ed europeo. accanto all'attività di docente e di studioso, Fulvio Camarano collabora come editorialista a varie testate giornalistiche nazionali, ha diretto vari progetti di ricerca in Italia e anche all'estero e sottolineo della sua produzione alcuni titoli perché ci richiamano agli argomenti toccati da Rusconi nella sua prima lezione, cioè quando Rusconi ha fatto riferimento alla centralità di alcune figure, tra cui Giovanni Giolitti, in particolar modo nelle fasi che precedono l'ingresso dell'Italia in guerra, nel dibattito politico, insomma, del 14-15. Bene, alcune delle ricerche di Camarano ovviamente si intrecciano con questi temi. Nel 90 ha pubblicato un volume, Il progresso moderato, un lavoro sulla classe politica, sull'età crispina, e poi in contemporanea, sempre nello stesso anno, un lavoro sul conservatorismo inglese, negli anni tra il 1885 e il 1892, e poi una sintesi importante, nel 99, una storia politica dell'Italia liberale che è quasi ormai un piccolo classico, diciamo così, insomma, nel suo genere, che è stata recentemente ristampata nel 2011 in occasione del 150esimo dell'unificazione, e più di recente si è spostato su un tema molto interessante di ricerca che riguarda la questione della delegittimazione politica nella storia italiana. E attorno a questo tema è nato un gruppo di ricerca di cui faccio parte anch'io e anche altri colleghi dell'Ateneo Veronese e che ha ottenuto un paio di anni fa un grosso, diciamo, finanziamento dal Ministero della Ricerca. E l'ultima, e vengo alla cosa che ci interessa di più, attualmente Fulio Camorano sta dirigendo un lavoro, una ricerca che tra qualche mese diventerà una pubblicazione, sul neutralismo. E quello è il motivo appunto per cui l'ho chiamato qui a parlare su questo tema che è un tema naturalmente nello schema del ciclo che avete visto fondamentale. Cioè con Rusconi abbiamo diciamo affrontato un po' un quadro generale della storia europea negli anni tra il 14 e il 15 vista prevalentemente dal punto di vista tedesco perché Rusconi è un esperto storia tedesca e se trasportiamo quei temi dentro la storia italiana il dibattito tra neutralisti e interventisti di cui parleremo appunto nel prossimo incontro è un passaggio fondamentale. E questa è la prima ricerca sul campo che viene fatta su scala addirittura regionale perché il volume in cui stanno lavorando è un volume che ricostruisce il dibattito tra neutralisti e interventisti regione per regione è un primo tentativo di offrire una mappatura di questo fenomeno cioè di chi erano sostanzialmente i soggetti i gruppi eccetera i movimenti che concretamente si opposero alla guerra nelle fasi decisive appunto del 1915 nei mesi decisivi del 1915. Detto questo vi cedo volentieri la parola. bene grazie Renato adesso io dico la verità non mi aspettavo questo tuffo nel passato dunque il tema di oggi tema su cui appunto come ha detto Renato sto lavorando con un vasto gruppo di ricercatori stiamo cercando di ricostruire non tanto il dibattito quanto la prassi diciamo la domanda è una domanda molto semplice all'inizio e all'origine di questa ricerca cioè cosa hanno fatto gli italiani per non entrare in guerra visto che siamo entrati in guerra chiaramente come dire si può dire non abbiano fatto abbastanza e questo è una delle questioni su cui la ricerca dovrà provare a dare una risposta però capire materialmente la resistenza all'ingresso nella guerra è un tema che diciamo può sembrare strano ma non è stato mai affrontato il neutralismo è stato visto sempre come un fenomeno che come dire un fenomeno di sconfitti e quasi una dimensione di inevitabilità dunque se è inevitabile il neutralismo è marginale in realtà ovviamente quello che emerge dalla ricerca ovviamente poi gli autori più avvertiti e sanno benissimo che non è così ma quello che emerge dalla ricerca lo conferma si può essere sconfitti e non marginali dunque io vorrei affrontare il tema un po' diciamo vedendo alcuni aspetti generali entrare solo all'ultimo nella questione che vi ho appena detto cioè la dimensione materiale del neutralismo intanto con una distinzione tra la neutralità e il neutralismo la neutralità è una condizione uno stato di cose e è stata scelta dall'Italia allo scoppio della guerra europea e però rappresenta noi magari non ci abbiamo mai riflettuto abbastanza una rilevante peculiarità nel panorama della prima guerra mondiale perché si tratta della neutralità del più importante paese europeo tra quelli non entrati subito in guerra per cui diciamo non è esattamente altri paesi erano rimasti neutrali però di dimensioni di rilevanza decisamente minori in più il più importante paese europeo tra quelli non entrati in guerra è parte integrante di un'alleanza di una grande alleanza del tempo che era la triplice alleanza per cui questi due aspetti rappresentano un evento importante da sottolineare e passano dieci mesi prima che l'Italia si decida ad entrare in guerra e in questi dieci mesi succedono delle cose in Italia succede un conflitto uno scontro tra i cosiddetti neutralisti e i cosiddetti interventisti i termini sono i termini adottati all'epoca anche se non sono precisi da un punto di vista lessicale perché il neutralismo significa equidistanza cosa che ovviamente i neutralisti non erano noi dovremmo dire non interventisti e interventisti però il termine neutralista diventa un termine molto diffuso e noi utilizziamo questo diciamo che anche qui a proposito di non saper cogliere l'importanza farsela sfuggire non abbiamo spesso capito il significato di questi dieci mesi dieci mesi in cui una nazione di fatto si interroga su cosa fare e pensate agli altri gli altri paesi nel giro di poche ore si trovano in guerra senza poter dire sì no in guerra e coinvolti perché ognuno dei paesi entrati in guerra si sente aggredito e si considera aggredito dunque è una guerra partecipata perché ci si deve difendere da un aggressore e lì non c'è scelta siamo in guerra per l'Italia invece questo problema non c'è l'Italia non è aggredita e sceglie di rimanere neutrale e allora questa fase diventa una fase che abbiamo vissuto noi principalmente ripeto sempre come grande potenza altri piccoli paesi non sono entrati in guerra però su di noi le pressioni erano maggiori dunque diciamo questi mesi noi nei libri di storia degli anni dei decenni passati sono stati considerati quasi una specie di piccola vacanza prima di entrare in guerra insomma risolvere qualche questione ma la guerra era inevitabile ecco su questo ovviamente c'è da discutere e non era certamente così dunque sono mesi importanti la neutralità dunque è una scelta del governo è una scelta di politica estera il neutralismo invece è un'altra cosa il neutralismo è un'indicazione posizione movimento politico fa riferimento a un discorso di politica estera di cosa fare e di cosa far fare all'Italia dunque il neutralismo sempre ed è un movimento politico ed è una strana evoluzione perché se noi ci pensiamo inizialmente nell'agosto del 14 quando scoppia la guerra questo neutralismo è qualcosa di rivoluzionario e pochi in Italia non erano davvero neutralisti cioè pochi allo scoppio della guerra erano convinti che bisognasse rispettare l'alleanza con l'Austria e la Germania entrare in guerra senza fare storie ma la maggior parte degli italiani è immediatamente d'accordo con la scelta del governo per vari motivi e dunque questa scelta appare sia a livello internazionale che a livello nazionale una scelta rivoluzionaria certo che lascia qualche ombra sull'Italia per chi non conosce i fatti l'Italia tradisce un'alleanza ma è evidente che le argomentazioni portate dalla diplomazia italiana e dal ministero degli esseri italiani sono argomentazioni forti convincenti la stessa Germania in parte è irritata con l'Austria ma insomma nel complesso l'Italia può legittimamente star fuori da questa guerra perché l'Austria in qualche modo non ha adempiuto agli obblighi del trattato avvertire far partecipare e più altre inadempienze precedenti dunque l'Italia può scegliere di star fuori e questa scelta dicevo però è rivoluzionaria e ha un grande consenso nazionale dunque si parte in discesa per il discorso della neutralità non entriamo in guerra a fianco dell'odiato nemico e questo è un grande consenso e allo stesso tempo ci riavviciniamo alle potenze della democrazia liberale certo la parentesi e l'eccezione della Russia era un problema ma insomma si poteva mettere sotto il tappeto il caso il caso russo dunque neutralismo è la linea politica su cui concordano tutti e su cui non ci sono problemi addirittura il neutralismo ci fa scoprire qualcosa che noi non conoscevamo cioè per la prima volta l'Italia comincia a essere corteggiata significa che questa medio grande potenza che rimane fuori dalla guerra attira l'attenzione delle potenze che sono in guerra non solo corteggiata inizialmente c'è addirittura commossa gratitudine ci sono testimonianze della commossa gratitudine in Francia e in Inghilterra per il mancato intervento dell'Italia per cui sotto le ambasciate italiane ci sono manifestazioni di giubilo di festa a cui partecipano anche deputati sia francesi sia inglesi a Londra perché è una scelta che dà respiro alle forze dell'intesa soprattutto ovviamente ai francesi e indebolisce la triplice alleanza non era una scelta ovvia naturale per cui inglesi e francesi in particolar modo rimangono particolarmente colpiti e grati nei confronti dell'Italia dunque accanto a questo consenso nazionale c'è un immaginario internazionale positivo ovviamente fatta eccezione per l'Austria e la Germania che invece in questa cosa comunque vedono un tradimento soprattutto ovviamente l'Austria allora dicevo questo quadro così idilliaco comincia rapidamente però a modificarsi perché la guerra intanto è scoppiata la guerra significa se voi andate a vedere i giornali dell'epoca tutti i giorni sui giornali italiani notizie di queste battaglie mostruose di queste avanzate incredibili dei tedeschi che poi vengono bloccati e poi ripartono morti su morti stragi e dunque è un'esplosione in cui noi ci troviamo così come spettatori e questo modifica un po' alla volta la percezione di questa idea di neutralità intanto la modifica all'estero ho fatto una ricerca sui giornali inglesi e la neutralità italiana emerge chiaramente che gli inglesi continuano a dire benissimo certo sul Times avete fatto ottimamente certo che come dire poi quando finisce la guerra chi è stato neutrale prende qualcosina forse speriamo e invece chi ha versato il sangue prende di più insomma e la Francia stessi discorsi per cui dentro in Italia si è già creata una corrente di opinione pubblica che dice espressamente beh insomma adesso però la neutralità non basta più dobbiamo partecipare perché è l'occasione per risolvere i conti con il nostro nemico storico con l'Austria è l'occasione ovviamente l'interventismo coloro che cominciano a intervenire pur nelle distinzioni si trova d'accordo nell'idea che la guerra ormai deve essere fatta prepararsi però bisogna entrare in guerra e questa idea che la guerra due grandi filoni l'interventismo democratico come noto immagina un compimento di una missione dunque il discorso delle terre irredente e della nazione nel modello ancora mazziniano e un interventismo nazionalista e autoritario che invece pensa all'intervento non tanto e in alcuni casi molti nazionalisti lo dicono ma basta con queste ciarlatanate di terra irredente insomma sono cose minori l'Italia deve intervenire perché deve pensare come politica di potenza deve pensare alla Dalmazia deve pensare alle coste deve pensare a occupare quello che l'Austria una volta sconfitta lascerà dunque sì le terre irredente sono una cosa per sognatori ma il vero problema è una politica di potenza vera che va a occupare altre nazionalità e lì inizierà anche un contrasto sulle argomentazioni per il patto di Londra diciamo cosa dare all'Italia per farla intervenire l'Italia chiede ad Almazia i russi si ribellano gli inglesi cercano di mediare perché dicono signori ma allora creiamo un irredentismo alla rovescia cosa facciamo voi vi prendete terre dove ci sono gli slavi e dopo gli slavi faranno quello che fate voi adesso a Trento e a Trieste per cui diciamo due forme di interventismo che però segnalano entrambi porne la differenza l'immagine di una guerra inevitabile dall'altra parte invece rimane un blocco guardingo da subito guardingo in particolare presidiato dai socialisti che invece dice no neutralità comunque sempre a tutti i costi neutralità assoluta il partito socialista è diretto dai massimalisti i riformisti hanno un ruolo secondario però dentro il partito socialista come è noto inizia un dibattito e questa parola neutralismo comincia a essere attirata da tutte le parti neutralismo relativo un neutralismo concordato neutralismo assoluto ovviamente dentro i vari aggettivi che si affiancano la parola neutralismo ci sono visioni neutralismo assoluto è il neutralismo di chi dice all'interno del partito socialista e di alcune frange anarchiche a noi della nazionalità non interessa assolutamente nulla dunque qualunque cosa succede non bisogna fare la guerra perché è una guerra capitalista l'unico interesse che ci deve muovere l'unico perno attorno a cui ci muoviamo è quello della classe e la classe non ha nazione e dunque neutralismo assoluto invece all'interno del partito socialista una componente Turati fra tutti ma anche Treves ragionano in termini di neutralismo relativo cioè un neutralismo che si ferma fino al momento in cui l'Italia non viene attaccata dopodiché è dovere anche dei socialisti difendere l'Italia qui nasce un grosso dibattito sull'idea di patria e di nazione per i socialisti e questa è una questione grossa e importante perché attorno a questa idea di patria e nazione ovviamente ruota tutto il gioco della legittimazione politica di queste forze cioè chi combatte in questa guerra neutralisti interventisti lo fa per l'Italia per la nazione ognuno è convinto di fare l'interesse della nazione gli interventisti per fare una più grande Italia per occupare le terre ridente oppure per rafforzare la potenza i neutralisti certo non quelli assoluti ovviamente ma gran parte dei neutralisti che ovviamente non sono solo socialisti come vedremo tra un po' invece sono convinti che il bene dell'Italia e della nazione si fa rimanendo fuori per cui ci si gioca tutto attorno alla questione nazione patria e i socialisti sono costretti a scendere su questo terreno socialisti che fino al 12 avevano avuto come dire il loro punto di riferimento nell'internazionale e nell'idea che le nazionalità erano qualcosa diciamo che andava scemando grazie alla forza e all'azione della classe operaia si trovano nel 14-15 a dover ridiscutere di nazione e di patria e allora qui il gioco diventa complicato perché gli altri neutralisti chi sono semplificando sono la chiesa cattolica che significa in parte cattolici ma soprattutto ovviamente il papa la chiesa l'istituzione che non può non essere come dire contro la guerra si deve muovere barcamenare tra contendenti e un invito continuo al cessate il fuoco che viene sempre dal papa e dal vaticano che però poi ha dietro una serie di manovre di attività che sono significative di posizionamento ma la chiesa cattolica è per non intervento dell'Italia e molti dicono è per forza la chiesa cattolica è vicina all'Austria è vicino come dire all'imperatore e al cattolicesimo austriaco un'idea un'illazione ma certamente tra gli insulti degli interventisti contro i neutralisti anche i neutralisti socialisti tra gli insulti c'è austriacante e papista per cui chi non vuole entrare in guerra si prende l'epiteto di austriacante e papista per dire che comunque questo tema della chiesa cattolica e della neutralità è un tema delicato e poi ci sono i giolittiani e anche qui andiamo su un terreno un po' scivoloso perché i giolittiani da tempo in particolare ovviamente i giolitti sono considerati diciamo la componente degenerata del liberalismo quella che ha affossato l'Italia la componente alla fine vicina ai tedeschi motivi personali ovviamente e legami di giolitti ma insomma varie illazioni quello che conta è che ovviamente è la corruzione dobbiamo pensare all'immagine di molti anche tra la gente comune ovviamente ma di molti politici che non facevano parte della cerchia diciamo del gruppo di potere che vedono appunto dell'uomo politico di Dronero vedono l'esempio massimo della corruzione della degenerazione e in fondo dell'antinazionale allora mettiamoli insieme questi tre socialisti ma sono antinazione per struttura perché pensano alla classe certo abbiamo detto molti rivendicano il loro patriottismo ma però l'immagine è e anche i proclami la classe su tutto i cattolici nella tradizione italiana i cattolici non volevano certo la nascita dell'italia e i cattolici e la chiesa sono antinazionali molti cattolici provano e da tempo si stanno integrando e vorrebbero addirittura la guerra per dimostrare di essere italiani a tutti gli effetti però l'immaginario non è certo un immaginario direttamente legato alla patria e alla nazione e i giolittiani corrotti e filo tedeschi per cui questa è la componente neutralista una componente che per di più non parla non si parla tra di loro queste tre componenti che non vogliono la guerra sono fortemente separate e polemiche tra di loro i socialisti che dicono mai e poi mai con quelli perché quelli vogliono un tipo di neutralità che non c'entra niente con la nostra i cattolici si guardano bene dal mescolarsi con i socialisti e con gli stessi giolittiani e i giolittiani ovviamente a loro volta non ricevono nessun tipo di sponda e allora finisce anche in questa specie di sordità fra componenti finisce anche l'originaria ipotesi di un accordo che era nato come se vi ricordate tra Turati e Giolitti all'inizio del secolo un accordo che aveva a che fare con l'idea che ci si poteva trovare su un livello di democrazia un po' più avanzata mettere fine all'autoritarismo crispino e pensare in termini come dire di democrazia borghese un po' più avanzata c'è l'altra sponda un uomo che ci ha capito i famosi discorsi socialisti in cui dicevano beh Giolitti forse possiamo fare qualcosa ecco è cambiata l'epoca la Libia ha messo fine a ogni illusione lo stesso Turati sulla Libia ha diciamo abbandonato ogni prospettiva di poter fare un dialogo con Giolitti e con con Giolitti e con i giolittiani e Giolitti e i giolittiani hanno abbandonato l'idea di dialogare con i socialisti quando all'interno del partito socialista hanno vinto i massimalisti per cui queste due componenti che all'inizio del novecento potevano avviare un dialogo adesso sono totalmente separate certo Turati scrive lettere strazianti alla Kulishoff in cui dice tutto meno che la guerra tutto meno che la guerra è la Kulishoff più realista e fa capire che insomma è molto difficile in questo contesto ma Turati è pronto a tutto per evitare la guerra ma non c'è il contesto politico non c'è il contesto politico ci sono forze separate che hanno una spinta emotiva completamente diversa però una dall'altra ma che non sono unite da niente e neppure dal pacifismo non hanno una teoria queste forze da portare avanti i socialisti vedono nella guerra la guerra imperialista una guerra contro la classe proletaria e dunque non vogliono la guerra per non far morire i proletari e dunque in difesa della classe operaria i cattolici non vogliono la guerra perché la guerra ovviamente è una cosa che non si può fare non si deve fare contro la legge di Dio ma in molti casi si può combattere ovviamente quando è in gioco come dire l'essenza dei principi dunque i cattolici non è che rifiutano la guerra a priori e i giolittiani assolutamente giolitti non ha mai detto che non voleva fare la guerra non voleva fare la guerra in quelle condizioni in quella situazione e in quel contesto per cui non c'è nemmeno una teoria unificante per queste tre componenti che a questo punto risultano deboli divise frantumate perché o dentro ognuna di queste realtà poi c'è diciamo una ulteriore divisione abbiamo detto tra i socialisti abbiamo detto tra i cattolici e tra i giolittiani e allora ecco la debolezza la debolezza del neutralismo allora quando vediamo lentamente modificarsi l'immagine del neutralismo dobbiamo far riferimento al fatto che tra novembre dicembre gennaio tra il 14 e il 15 cominciano a nascere numerose associazioni che si chiamano fasci rivoluzionari interventisti che sono associazioni composte soprattutto da repubblicani da democratici radicali associazioni di persone che fino alla settimana rossa poche settimane prima fino alle contestazioni per la guerra della Libia erano con i socialisti dunque c'è anche questo trauma questo dramma dentro questa lotta una divisione anche di persone che fino a poche settimane prima combattevano insieme dunque una guerra fratricida da molti punti di vista e allora dicevo se andiamo a vedere questa moltiplicazione di società associazioni che cominciano a dire entriamo in guerra e che hanno dalla loro diciamo una cultura e un'ideologia progressista di movimento e beh allora cominciamo a capire perché il messaggio passa fare la guerra significa muoversi uscire dalla stagnazione uscire dalla miseria e tenete presente che in quei mesi aggravata anche dalla guerra perché poi la guerra anche per un paese neutrale significa un sacco di problemi economici approvvigionamenti eccetera eccetera ma in quei mesi moltissime proteste erano proteste di tipo economico disoccupazione e allora la guerra come soluzione in grimaldello e con la guerra si risolve ci si muove questa idea di un obiettivo da raggiungere unisce fa da collante fra tutti le componenti diverse dell'interventismo perché i nazionalisti vogliono intervenire per diventare una grande potenza i democratici per dare una vera democrazia contro il giolittismo deteriore e una nazionalità più forte più sicura e completa finalmente il risorgimento completato ma alla fine cose completamente diverse che però hanno un'esigenza in comune fare la guerra questo viene coperto nei momenti di tensione maggiore e sembra un fronte unico in fondo bisogna entrare in guerra poi i conti si faranno dopo e questa è l'idea che ognuno ha nazionalista repubblicano democratico sono insieme perché bisogna entrare in guerra dopo il non detto è poi vediamo cosa succede in una lettera autocritica scritta nel 1965 da Pietro Nenni che all'epoca era un repubblicano che combatteva come un disperato per l'intervento e Pietro Nenni scrive insomma non lo dice così ma insomma sostanzialmente dice era un cretino perché non avevo capito che era finito il risorgimento eravamo già nell'epoca delle guerre imperialistiche e nelle guerre imperialistiche la vera rivoluzione era non fare la guerra non farla è l'autocritica di un interventista convinto che ha combattuto nelle piazze la convinzione che la guerra avrebbe trasformato l'Italia l'avrebbe rivoluzionata questo era interventismo democratico e questa immagine è un'Italia nuova diversa più avanzata che avrebbe cambiato tutto e allora questa immagine di movimento di cambiamento è forte come messaggio soprattutto se si unisce a degli organi di stampa così diffusi così di livello come il Corriere della Sera di Luigi Albertini insomma c'è il messaggio c'è il mezzo c'è l'immaginario c'è tutto e invece i neutralisti appaiono conservatori egoisti immaginate questi signori che nei conflitti devono rispondere alla domanda e voi accettate i massacri dei Belgi la distruzione della Francia patria della rivoluzione non fate niente non muovete niente eppure questi si sono mossi per voi accettate il militarismo tedesco bisognava rispondere a queste offese che dicevo prima austriacante papista ma anche vigliacco c'è una dimensione fisica la guerra e la risposta è debole massoni servi della borghesia risposte che non hanno la stessa efficacia comunicativa e per i socialisti inizia una riflessione che condurrà alla nota come dire scissione interna scissione Mussolini il popolo d'Italia c'è coloro che di fatto si uniscono alla componente democratico radicale sindacalista rivoluzionaria che vede nella guerra l'occasione per fare una rivoluzione o comunque questo era l'argomento non è una scissione enorme dal punto di vista quantitativo però indebolisce un fronte già non particolarmente forte i socialisti sono effettivamente sulla difensiva ma non significa che non operano attivamente allora se intorniamo al punto del contrasto questa immagine della nazione improvvisamente diciamo possiamo prendere la posizione il punto di vista di 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 Lenin che proprio in quegli anni faceva un discorso molto preciso su questo tema e cioè tanto Lenin dice dell'Italia che è l'unico paese l'unico paese proprio espressamente le masse dice Lenin non sono stati interrogati in nessun luogo eccetto altro forse l'Italia 9-10 mesi di discussione prima della dichiarazione di guerra e in Italia le masse erano contro il partito di Bissolati cioè i socialisti diciamo che erano già stati favorevi alla guerra di Libia e dunque Lenin riconosce che l'Italia è l'unico posto in cui le masse di fatto sono state interrogate interrogate non dal governo che il governo è il governo più isolazionista che si è mai conosciuto cioè la coppia Salandra Sonnino era al limite del patologico Salandra non riconosce il ruolo dell'opinione pubblica per Salandra c'è il governo e gli altri devono scomparire il governo sa quello che fa e quello che deve fare e gli altri non devono dire niente Sonnino aveva proprio una forma che alcuni parlano di patologia non parlava con nessuno forse nemmeno con se stesso per cui questa coppia che era la coppia che governava in quel momento l'Italia non voleva nessun tipo di disturbo dalle piazze né degli interventisti né degli interventisti sappiamo noi quello che dobbiamo fare e dunque emana dei decreti e dà indicazioni affinché in piazza non ci sia nulla ovviamente non è possibile ecco perché le masse sono interpellate non si può chiedere alla gente cui il proprio paese decide se entrare in guerra o no di non esprimersi e questa espressione avviene attraverso una forma di guerra civile perché dal gennaio febbraio del 15 e da tutte le parti ci sono scontri spesso quotidiani moltissimi feriti numero relativo di morti ma insomma ci sono morti arresti e scontri comizi scontri comizi tutti i giorni questa era una forma di guerra civile che aveva diciamo una base di visceralità profonda un dualismo entrare non entrare che era una domanda di base che coinvolgeva tutti c'è una dimensione materiale dietro questo discorso pensiamo al fatto di decidere se entrare in guerra o no c'è un coinvolgimento materiale e allora questa realtà di fatto ci restituisce un neutralismo molto più combattivo di quello che appare cioè il neutralismo non corrisponde nelle piazze alla realtà del partito socialista ufficiale come si chiamava una volta uscito Mussolini nel senso che il partito socialista ufficiale si barcamena ma le piazze neutraliste eccedono vanno oltre i due morti che ci sono a Reggio Emilia il 25 febbraio del 15 sono due operai socialisti che non hanno obbedito all'indicazione del partito di non andare a contestare Cesare Battisti che stava parlando al teatro di Reggio Emilia il partito ha detto non andate e lì si era donata una folla allo stesso per contestare certo Cesare Battisti rappresenta un vero filo rosso del discorso e del conflitto neutralisti interventisti perché gira tutta l'Italia e ogni volta che arriva c'è un contrasto durissimo che finisce spesso nel sangue però e a Bologna Zanardi il sindaco dice espressamente una frase che mi avviso è molto importante dice beh ma insomma la violenza proletaria è qualcosa di nuovo che nasce dal fatto che non lo dice ma noi non possiamo controllare attenzione lui è sindaco da pochi mesi questo è importante perché in molte amministrazioni nel giugno del 14 sono arrivati socialisti alle amministrazioni comunali e questo un po' produce una responsabilizzazione attenua le forme più radicali di protesta e dunque Zanardi dice beh c'è un nuovo tipo di violenza che noi non conosciamo e che deriva dal fatto che questi proletari rispondono a delle violenze che gli arrivano da altre parti ma rispondono in un modo che noi non possiamo controllare per cui c'è il segnale di qualcosa di non controllabile e allora diciamo tornando e collegandoci a questo punto tornando alla questione della nazionalità dicevo Lenin dopo aver detto che l'Italia è l'unico paese che è stato interpellato riconosce che il tema della nazione è un tema che fa parte del marxismo e del socialismo solo che dipende dalla fase in cui lo si osserva cioè la nazione è un fenomeno rivoluzionario gli esempi classici dopo la rivoluzione francese utilizzare il tema della nazione significa utilizzare un tema rivoluzionario e fare la rivoluzione in altri momenti è un tema invece conservatore nazionalista eccetera eccetera perché una nazione esiste può essere rivoluzionaria è certo che è una valutazione dire quando non è e quando è rivoluzionaria ma ci sono molti socialisti che nei dibattiti dell'epoca dicono chiaramente mettiamoci il cuore in pace la patria esiste sarà pure l'ultimo diciamo l'ultimo falso storico di un mondo preumano ma intanto c'è esiste e noi dobbiamo accettarla e dunque su quello ci dobbiamo scontrare e verificare e il fatto che la nazione esista lo dimostra anche che in moltissimi contraddittori che ci sono quando qualcuno osa dire a un socialista turatiano riformista austriacante papista beh i socialisti tiano fuori il palmares della loro storia personale o di quella del loro no attenzione io ho combattuto contro gli austriaci ho fatto il risorgimento noi eravamo qui voi dove eravate cioè comincia quella diatriba io ho fatto tu dove eri cosa hai fatto cosa non hai fatto che però alla fine cosa produce il fatto che la nazione è un qualcosa che fa parte della cultura socialista e che i socialisti sono costretti a difendere è questa contraddizione ci sono dichiarazioni della direzione del partito che cercano di attenuare questo aspetto e di riportare il tema sulla classe e ci sono dichiarazioni del gruppo parlamentare socialista che invece è tutto interno alla legalità alla patria alla nazione e fanno appello il gruppo parlamentare socialista al fatto che i socialisti devono guardare al parlamento come loro ultimo baluardo e che bisogna assolutamente che i socialisti salvino la patria e la nazione tocca a loro farlo per cui è la prova che in qualche modo c'è una frattura e che è un problema non risolto questo della nazione è un problema non risolto che però come ho detto prima indebolisce per forza questo tipo di questione e se come dire questa dichiarazione per esempio tutta contraddittoria della direzione del partito socialista e del gruppo parlamentare del 18 gennaio si sono riuniti e sono due organi che hanno idee completamente contrapposte e che hanno partorito questo documento che insomma emana sofferenza da tutte le parti io immagino ogni singola parola contrattata questi dicono allora il non interventismo nostro nulla ha a che fare con la teorica e con la pratica dell'erveismo l'erveismo era la teoria di chi diceva armi mai il nemico vada dove vuole che tanto un padrone vale l'altro per cui era l'estremismo assoluto del non intervento allora dice il nostro non interventismo nulla a che fare con la teorica e la pratica dell'erveismo teorico e pratico che se debbono essere considerati superati nel pensiero socialista e nelle organizzazioni proletarie segnano anche peraltro come espressione di stati d'animo individuali di numerosi lavoratori una formidabile accusa contro lo spirito di classe che caratterizza la patria sotto il dominio borghese vedete questa cosa erveismo no però di fatto il problema della patria è la patria dei borghesi e dunque per noi è un problema insomma non si arriva a una soluzione nel senso che il partito socialista manterrà questa posizione ma una posizione debole come vi dicevo prima mentre l'interventismo riesce a unificarsi alla luce di un immaginario e di un obiettivo da raggiungere unificarsi sulla base del presente cioè noi siamo un paese che non è intervenuto in guerra però siamo un paese che sta male non ci diamo obiettivi che l'immaginario fa credere che la guerra può raggiungere e non ce li diamo ma non ci uniamo nemmeno e non siamo uniti neppure da una teoria non siamo pacifisti non siamo niente siamo cattolici che non vogliono socialisti che non vogliono e giolittiani che non vogliono ma per motivi diversi e senza organi di stampa altrettanto forti certo c'è la stampa a Torino diciamo di area giolittiana ma non ha il peso la forza la convinzione che ha Luigi Albertini del Corriere della Sera che di fatto è il ministro aggiunto del governo Salandra allora l'immaginario di un autore come Alfredo Panzini che vive questa questa realtà che girando per le strade vede questa angosciosa situazione si sta per entrare in guerra diciamo in questo suo brano c'è un po' l'essenza di un distacco di un qualcosa che non è potuto nascere e dice Panzini questa unica implacabile o tenebrante idea non esiste che il proletariato tutto il resto è borghese ma non c'è che il proletariato che soffre senso di freddo impossibilità di persuadere neutralità e sia ma per considerazioni politiche che ci possono anche essere per un alto senso umano e civile ma no neutralità perché non vi siano lacrime e sangue proletario e dire che un socialismo illuminato avrebbe potuto trascinare dietro di sé quasi tutta la nazione ed evitare la guerra non ha trascinato dietro di sé nemmeno se stesso ed è questa amara considerazione di Panzini rispetto a questa linea irrisolta del partito socialista che ovviamente vedeva nel riformismo all'ultimo prova Turati a ricollegarsi a tentare un contatto con Giolitti ma ormai non c'era più niente da fare dunque chiudo facendo riferimento a quello con cui la questione da cui sono partito e cioè il neutralismo politicamente debole perché non ha trovato un mezzo politico in grado di farlo diventare forte non è riuscito a trovarlo e però diciamo ha una forza di persuasione capacità operativa inimmaginabile perché dipende da componenti che normalmente non si esprimono sulle piazze parliamoci chiaro adesso un po' la teoria del 50 e 50 c'è gli italiani cos'è? beh insomma verso la fine 50 favorevoli e 50 no ma è una teoria falsa perché le grandi masse erano assolutamente contrarie senza esprimersi immaginate le campagne del meridione immaginate le campagne in generale immaginate la massa di persone alla parola guerra attenzione alla parola guerra laddove si doveva anche dire attenzione noi non siamo attaccati da nessuno è perché questo era il punto immaginate un referendum e immaginate un referendum su questo che risultati avrebbe dato e non era il 50 e 50 allora questa piazza che non si esprime ha una sua dimensione pubblica i neutralisti in piazza ci vanno sono l'espressione di questa maggioranza silenziosa diciamo così sono l'espressione di questa maggioranza silenziosa chi va in piazza abbiamo detto i socialisti ma vanno in piazza metaforicamente anche i cattolici nel momento in cui alcuni vescovi accolgono chi più chi meno a secondo il livello di partecipazione dei vescovi accolgono l'appello del papa invitano i fedeli a speciali giornate occasioni di preghiera che sono affollatissime affollatissime vengono descritte occasioni in cui la massa è addirittura non sta in chiesa stanno fuori e sono segnali che ovviamente non possono essere politicamente interpretati in modo diretto però sono segnali significativi cioè si esprime anche così il desiderio di evitare la guerra e allora dicevo questa dimensione pubblica che esiste è espressione di una realtà silenziosa rassegnata rassegnata di fatto che accetta tutto quello che viene no molti descrivono soprattutto per i contadini l'idea della guerra come la grandi non si può evitare ce la prendiamo ma il bisogno e questo lo dice anche Matteotti a un certo punto non era solo portare questa massa in guerra ma portarla felice e Matteotti è indignato il giorno in cui Italia entra in guerra perché oltre a entrare in guerra bisogna entrarci con le bandierine con i canti e con la felicità di queste masse che sono viste proprio come animali portati alla guerra senza sapere ecco allora questo mondo che ha avuto una sua forza è stato a lungo dimenticato e va in realtà studiato ancora per capire come mai un paese in cui la maggioranza della popolazione era contraria alla guerra in cui il più importante uomo politico del paese era contraria alla guerra il più importante partito di massa era contraria alla guerra e in cui la chiesa cattolica era contraria alla guerra come mai quel paese è entrato in guerra grazie grazie mi sembra un intervento estremamente interessante che conferma quanto complicata sia la storia italiana perché se si limita la nostra valutazione a questo arco molto contenuto di mesi emerge una sicuramente la persistenza di fratture che partono dal risorgimento che non si ricompongono che si riaprono altre fratture che si determinano in quei mesi che poi ritornano nel dopoguerra insomma effettivamente scusate no dicevo di fratture che si riaprono fratture mai composte dopo l'età del risorgimento dell'unificazione che si altre che riemergono in quei pochi mesi in realtà in cui si consuma questo durissimo contrasto nel nostro che divide il paese e fratture che poi ritornano nel dopoguerra e che sono all'origine della caduta dell'esperimento liberale nel nostro paese e aprono altri scenari quindi una storia complicata non voglio rubare minuti utili come è consuetudine tutti quelli che vogliono intervenire porre domande andiamo in ordine sparso prego grazie a tutti Grazie. Grazie. Due domande molto importanti che mi permettono di affrontare rapidamente due questioni che non ho affrontato, fra le tante ovviamente che non ho affrontato. Allora, D'Annunzio in particolar modo ha avuto un ruolo sicuramente importante come catalizzatore di immagine, però noi dobbiamo tenere presente che stiamo parlando sempre e sempre di minoranze, minoranze visibili, minoranze che fanno proseliti. Ma se guardiamo i grandi numeri siamo dentro le minoranze. Secondo Salvemini addirittura la guerra non sarebbe scoppiata se non ci fosse stato il Corriere della Sera e Albertini. Quello ha avuto un ruolo decisivo perché è pervasivo. Quella sera martellava, era presente, aveva influenza e cercava di raggiungere lo standard del Times che era davvero una specie di ambasciata inglese all'estero. I giornalisti del Times in giro per l'Europa di fatto erano visti come una sorta di ambasciatori inglesi. Il Corriere della Sera aveva un peso politico rilevante. Dunque, quella figura lì è una figura molto più importante dal punto di vista della realtà. Mentre D'Annunzio, soprattutto D'Annunzio, è senza dubbio un simbolo, un simbolo che produce immaginario forte. Il discorso da quarto, ovviamente, dallo scoglio di quarto è importantissimo. Si ricollega a quella questione appena fatta dei volontari perché queste figure cercano di recuperare l'immaginario di un'Italia che era stata sconfitta all'inizio da Cavour nel 1860 e che era stata di nuovo sconfitta con la crisi di fine secolo. E mi riferisco a un'Italia che cerca di porre tutta la propria attenzione sulla dimensione del colpo di mano, sulla dimensione azionista, sulla volontà del popolo a dispetto e contro la volontà dell'Italia legale, parlamentare, eccetera. Questi sono due immaginari che da tempo, e quello che diceva Renato adesso, cioè due questioni che si affrontano nella lotta interventista e neutralista e che rimangono anche dopo, sono l'irrisolto problema. Ma l'Italia come si fa? Con il popolo, sia pure attraverso la minoranza cosciente, consapevole, attiva, azionista, Azziniani, eccetera, eccetera, Garibaldi, completiamo, andiamo, poi prendo le fucilate a Spromonte e tutto si ferma. Oppure si fa, come diceva Cavour, dopo aver scombussolato tutto, dire ma adesso è la diplomazia, noi a Roma ci andremo, Venezia la riprenderemo, ma con calma e con l'accordo di tutti, attraverso le trattative. Come si fa l'Italia? E Garibaldi, nel 1860, risalendo dal Meridione, sostanzialmente sfida Cavour e il Parlamento dicendo a Vittorio Emanuele beh, insomma, facciamo e lasciamo perdere questa cosa del Parlamento. E Cavour, attraverso la maggioranza parlamentare, dice che non c'è nessun eroe che può superare la volontà del Parlamento, perché è nel Parlamento che si esprime l'Italia. Questo discorso drammatico, che sostanzialmente vedeva da una parte Garibaldi e Re, assolutamente indifferenti al ruolo del Parlamento e della legalità, e Cavour da una parte, si conclude con la ritirata di Garibaldi e l'accettazione del sistema, diciamo, liberal-parlamentare, ma non conclude però il punto centrale, cioè l'Italia va completata e deve avere un animo popolare di combattimento contro questa Italia legale parlamentare. Non solo non la conclude, ma la rilancia, visto lo scarso prodotto del Parlamento italiano, sempre più delegittimato. E quando nella crisi di fine secolo si ripresenta di nuovo l'immagine, sia pure sotto la veste autoritaria, basta col Parlamento, più autorità, più decisione, beh, anche nella crisi di fine secolo la superiamo attraverso la risposta giolittiana, che è una forma totalmente diversa, ma che è su quella linea, di Cavour. E nel 14-15 di nuovo arriva la sfida, perché quello che avviene nelle strade italiane e tra i volontari garibaldini che vanno a combattere in Francia quando l'Italia ancora non è entrata in guerra, beh, chi sono quelli? Sono l'espressione di questa volontà azionista, interventista, di chi dice questa è la vera Italia, quella che combatte, che c'è nelle strade, e non quella giolittiana, parlamentare, corrotta, che invece va superata, che non funziona. Dunque, d'annunzio è espressione immaginifica di quest'idea del popolo. E guardate che quando fa comodo anche gli inglesi si sono buttati su questa immagine, perché quando per tre giorni c'è stato il terrore in tutta Europa che Giolitti facesse un governo, perché Salandra si era dimesso, perché non aveva la maggioranza in quel Parlamento, e Salandra si dimette, e Giolitti, il re chiede a Giolitti di fare il governo, beh, c'è il terrore che corre in tutta Europa. Gli inglesi dicono, ma come è possibile, che vergogna, corruzione, cosa? La vera Italia è quella che scende in piazza. Quando fa comodo, come dire, la dimensione politico-parlamentare deve saltare per gli inglesi, perché ovviamente il desiderio era far entrare in guerra l'Italia. E anche in Italia tutti sono terrorizzati. Io piuttosto mi uccido, piuttosto che morire giolittiano. Gente disperata da quest'idea che Giolitti potesse fare il governo. Addirittura preoccupati che Giolitti arrivasse al governo e la facesse lui la guerra. La guerra giolittiana, nemmeno quella andava bene. Era Giolitti l'obiettivo. Giolitti con il suo parlamentarismo del terriore, attenzione, i nemici di Giolitti non erano tutti antiparlamentari, ovviamente come Salvemini e tanti altri. Volevano anzi la vera democrazia parlamentare che secondo loro Giolitti soffocava. Però in quel momento la piazza minacciosa sostanzialmente fa un discorso che poi Prezzolini riprenderà dicendo il fascismo in Italia nasce nel maggio del 1915. Perché? Perché per la prima volta la piazza ha avuto la meglio sulle istituzioni e con la forza le ha piegate. Noi sappiamo che nel Parlamento 300 erano per la neutralità e 100-150 per la guerra. quel Parlamento è stato costretto a votare la guerra. Chi è stato? La piazza. E allora Prezzolini dice, Prezzolini certo è uno non sospettabile, dice in quel giorno nasce il fascismo. Perché nasce la consapevolezza che le istituzioni si possono piegare con la forza e con la violenza. Allora, tornando alla domanda, è come si fa l'Italia? Quel quesito ritorna in quei giorni e vede nei volontari e anche in quelli che combattono nelle strade, interventisti, soprattutto studenti, ma non solo, combattono nelle strade, sono convinti di essere i militi di un volontariato che esprime un'Italia vera, reale e più forte. Ecco, in questo senso si può dire che il conflitto ha riportato in luce un discorso che non è mai tramontato, non è mai stato risolto definitivamente in Italia, e appunto il fascismo, in fondo, è una risposta a questo conflitto, come facciamo, come completiamo l'Italia, questa idea dell'Italia non risolta, è nata, ma non è risolta. No, da Zeglio l'Italia è fatta, dobbiamo fare gli italiani, in realtà questa è un'affermazione che si può capovolgere. Forse gli italiani erano nati, ma bisogna proprio fare l'Italia, bisogna completarla, nasce non risolta e dietro questo ogni tanto delle tappe della nostra storia sono tappe che, al di là del problema concreto, entrare o no in guerra, richiamano il problema irrisolto. E questo è il punto. Indizio d'origine, insomma. Il cambiamento di opinioni di Mussolini è irrilevante, è irrilevante nel senso che ha un grande dibattito dentro il Partito Socialista, però quando si va a fare la conta dei deputati che lo seguono e dei militanti che lo seguono, è una conta modesta. Certamente dal punto di vista morale è un'ulteriore batosta, ma non è il punto determinante. Il vero punto debole del Partito Socialista, che hanno scoperto questa cosa lì, in mezzo alle strade, è che hanno perso l'ala estremista che li fiancheggiava durante le proteste per la guerra di Libia e la settimana rossa. I veri estremisti erano i repubblicani e gli anarcho-sindacalisti, tutta quella componente lì. Quelli erano i rivoluzionari, quelli davvero temibili nelle strade. Bene, quelli sono dall'altra parte, improvvisamente. E allora quella è... I socialisti, perdendo Mussolini, perdono uno spezzone che va con quelli lì, ma è uno spezzone, non così determinante in questo senso. Però, certo, un organo di stampa, insomma, anche la povertà materiale di questa cosa, un po' di soldi prestati, parte dell'organizzazione. Noi poi abbiamo una grande immagine perché Mussolini poi è diventato quello che è diventato. Ma in realtà, come dire, è una defezione di una... anche Bissolati era un socialista che un po' prima si era distaccato dall'idea che la classe deve essere il centro. Ecco, questo è... Prego. Forse mi ha scudito, ma in tutto questo contesto la monastia è in la bestia non è... Non l'è sfuggito, non l'ho... perché io poi sul re mi devo sempre trattenere perché posso essere arrestato anche se siamo in una repubblica. Allora, è evidente che se si parla di colpo di Stato nel maggio del 15 si fa riferimento alla volontà del re di aderire a un qualcosa che il Parlamento non approvava e lui lo sapeva. Nell'aprile il patto di Londra viene firmato dal re. Una delle due volte in vita sua che Giolitti ha perso la calma e quando gli hanno detto che quel patto l'aveva firmato il re perché Giolitti dice benissimo tutto fatto il Parlamento è alla mia parte questi due cretini Salandra e Sonnino hanno firmato il patto di Londra vengono sconfessati arrivo io è finito loro non conto no scusa ha firmato anche il re e lì Giolitti perde ah allora Salandra mi ha mentito bugiardo come tutti i pugliesi diceva disse il piemontese Giolitti a dimostrazione dell'unità d'Italia delle fratture regionali e lì perde la calma perché ha capito che la partita è persa perché fare un governo significa di fatto far cioè il re deve abdicare a quel punto perché ha firmato in un paese che è già uscito da un'alleanza e che ha già fatto un pastrocchio perché l'Italia tra il patto di Londra e la denuncia della triplice alleanza per otto giorni è stata alleata di tutti sono passati otto giorni ha fatto il patto di Londra e dopo otto giorni ha denunciato la triplice alleanza per cui per otto giorni l'Italia era alleata di tutti e allora il re e Giolitti per la seconda volta dopo lo scandalo della banca romana si deve fare da parte per non far cadere il re e questo è il punto una domanda noi ieri abbiamo fatto un bel seminario che come avete visto da programma prosegue parallelamente al ciclo di conferenze ecco erano molti studenti è andata molto bene e lì è emerso questo problema del ruolo di Giolitti e lo ripropongo in quel momento prevale in Giolitti la domanda che ti faccio una sua fedeltà istituzionale cioè la monarchia come istituzione di fronte a quel quadro che si crea insomma cioè certo lui li ha messi in scacco perché quando lo mettono di fronte al fatto compiuto che il re ha firmato politicamente lui è sconfitto però poteva giocare ancora qualche carta forse però forse ieri dicevamo in questo seminario prevale in quel momento la fedeltà di un vero liberale alle istituzioni monarchiche insomma sì questo c'è questo c'è è la prova che la la monarchia è sempre stato un problema perché per coprire la monarchia sono state fatte parecchie cose cose strane e dunque la fedeltà istituzionale di Giolitti c'è poi c'è una considerazione politica evidente cioè Giolitti sa bene che a quel punto su di lui ci sarebbe stato il disastro cioè lui primo ministro significa ah gli austriaci sanno come la penso e dunque tutto quello che stanno offrendo a Salandra a me non lo offrono più perché io ovviamente sono il ministro neutralista e dunque tutto quello che succederà di negativo viene attribuito al mio governo un governo per di più che ha sconfessato un re in queste condizioni non è possibile fare il governo e dunque Giolitti rinuncia e disintegra tutta c'è questo carteggio che riceve Giolitti che è impressionante di gente che lo implora lo implora è l'ultima ancora di salvezza per non entrare in guerra e Giolitti non può farlo questo governo non ha gli strumenti si ritira e il re soddisfatto ridà l'incarico a Salandra e Salandra dice proprio nel momento in cui regli dal governo dice va bene questo significa che ormai entriamo subito in guerra prego però nello statuto albertino adiviva un chiaro e lecce che i trattati internazionali era solo il re che poteva firmarlo quindi una volta che era firmato in base al tutto certo lei lei fa appello giustamente alla costituzione formale però c'è una costituzione materiale cioè i Savoia hanno sempre detto noi facciamo i re voi fate gli italiani e decidetevi le vostre cose e significa che quando c'è lo Stato viene proposto lo Stato d'assedio sulla marcia su Roma e il re dice ma il Parlamento non mi ha detto niente io non faccio niente cioè il problema è che formalmente il re firma e ovviamente decide lui sullo Stato di guerra ma i crediti di guerra li concede il Parlamento e il re sa che quel Parlamento non li concede dunque è una forzatura perché c'è questa divisione solo il re può dichiarare la guerra ma i soldi per fare la guerra li deve dare il Parlamento e il re sa bene che quel Parlamento è giolitiano allora nel firmare cosa fa? una forzatura un colpo di Stato in questo senso non tanto nella forma si Battisti per cercare di spingere l'Italia ad entrare in guerra Battisti era un socialista no? Trentino e dunque si batteva per quegli ideali di democrazia e di completamento della nazione italiana e dunque aspirava all'ingresso di Italia in guerra e per fare questo personalmente individualmente comincia questo tour moltissime città italiane in cui va nei teatri a spiegare perché l'Italia deve entrare in guerra e dunque quelle era una star diciamoci e di conseguenza attirava l'attenzione dell'opinione pubblica e creava le situazioni che conducevano quasi sempre a degli scontri dove c'era il suo discorso sicuramente c'era uno scontro tra neutralisti e interventisti lui fa questa operazione in giro per l'Italia per spingere l'opinione pubblica per convincere per far vedere gli orrori di cosa significa stare sotto il governo austriaco eccetera eccetera ma ovviamente però riceve la reazione dei neutralisti ovviamente dei socialisti che cercano socialista anche Battisti a conferma in che situazione particolare e drammatica siamo la reazione dei socialisti che vedono in lui invece un megafono pericoloso dell'interventismo considerando appunto che la mazza era una compaglia reale è universitario dire che questa è la guerra della borghesia beh diciamo certo tra gli interventisti se si vanno a vedere i dati tra gli interventisti ci sono quasi tutti i borghesi quasi gli studenti il 90% le città universitarie sono luogo di scontro e l'interventismo è tenuto in piedi dagli studenti ma poi comunque quelli favorevoli sono in gran parte dei borghesi quelli contrari sono in gran parte masse popolari in particolare i braccianti nelle campagne il partito socialista spesso fa riferimento per la forza d'urto ai militanti che vengono dalle campagne certe volte nelle città vengono chiamate queste masse contadine per fare appunto comizi o per rispondere a qualche tipo di di sfida utilizzando queste masse di campagne per cui operai c'è nel neutralismo c'è una dimensione fisica che non c'è nell'interventismo l'interventismo ha una dimensione ideale un disegno una visione l'Italia e il neutralismo c'è questa dimensione che è stata interpretata ed è anche diciamo un conservatorismo nel senso di conservarsi mantenersi in vita evitare stragi che si vedevano si vedeva cosa stava succedendo per cui il neutralismo propone questo immaginario che ci fa vedere popolani operai soldati di leva con tutto quello che rischiavano ma nei rapporti di polizia dei carabinieri quasi sempre c'è la denuncia di soldati di leva che perdono la testa perdono il controllo si mettono con i gruppi neutralisti corrono dietro a studenti interventisti diciamo andateci voi a fare la guerra i soldati di leva e le stazioni sono il centro degli scontri le stazioni il luogo dove ci si muove si parte anche quello simbolicamente significativo perché il neutralista vuole bloccare vuole impedire il movimento l'interventista vede una stazione il punto di partenza verso un futuro radioso però la composizione sociale è abbastanza netta è abbastanza netta cioè i neutralisti sono sostanzialmente ci sono pochissimi intellettuali neutralisti ce ne sono Salvatorelli ce ne sono Italia Nostra è un'associazione sono pochi i giornalisti sono tutti interventisti a parte appunto la stampa e qualcosa al mattino di Napoli sono tutti interventisti perché è questa idea di comunicare un'immagine di cambiamento una forza di trasmissione di immagine che i neutralisti non hanno racchiusi in quest'idea oltre divisi come vi ho detto racchiusi in quest'idea di una forza egoista così come i belgi muoiono e voi conservatrice statica che non vuole non vede un'Italia futura e questo ci spiega anche perché il neutralismo è stato rimosso ma chi fa comodo nella parte finita la guerra e a parte ovviamente il fascismo dove ovviamente l'elogio è solo per l'interventismo ma anche nel secondo dopoguerra c'è questa lettera autocritica di Nenni ma attenzione Gramsci Togliatti e tutti i giovani tutti interventisti tutti parri perché è l'interventismo di chi dice l'Italia del futuro contro questa cosa lusso sono tutti interventisti intellettuali e classe politica futura e allora anche nel secondo dopoguerra non si parla il neutralismo è una cosa imbarazzante ma è anche perché è un argomento dove non è che c'è una ragione le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro sono ragioni comprensibili e dunque difficili da cercare di incasellare in un qualcosa di positivo e negativo si può dire che gli interventisti democratici con questa idea di avere un cambiamento di trasformare l'Italia avessero torto certo Nenni dice eravamo cretini perché in realtà all'epoca la vera rivoluzione era non intervenire però è un clima è una situazione ma d'altro canto però è anche giusto vedere le posizioni dei neutralisti comprendere questa eccedenza che è un'eccedenza umana fisica queste persone in piazza non vogliono la guerra perché non la capiscono non vogliono andare a morire e cercano di resistere a questa cosa per un paese che non era attaccato e allora è questa un po' la prego tutti quasi tutti spingevano sì sì perché l'idea del futuro del cambiamento gli intellettuali vedono ma gli intellettuali tendono a risolvere il problema della crisi a dare risposte e la guerra era una bella risposta sia perché nessuno sapeva cosa sarebbe successo però intanto al momento era una risposta beh dopo cambierà cambierà saremo più democratici cambierà saremo una grande potenza ma dopo cambierà se lei fa il neutralista dice beh stiamo bene come stiamo e non è un messaggio facile da dare è molto è molto vario perché i cattolici hanno questo problema confermato da tutti gli studi cioè per il cattolicesimo era l'occasione finalmente per mettere fine a quell'immagine di cittadini di serie B antinazionali e dunque partecipare alla guerra significava questo e c'era molta spinta per dire beh noi siamo più italiani che cattolici ovviamente siamo tutte e due ma qui è l'occasione per far vedere gli italiani allora il discorso dei vescovi dipende dalla sensibilità dei vescovi alcuni mettevano l'accento sulla richiesta del papa altri ottemperavano però con meno entusiasmo dunque anche la riuscita delle manifestazioni delle funzioni ma anche delle processioni per la pace dipendeva un po' dalle sensibilità locali però quando si capisce che si scivola verso l'intervento molti dei leader cattolici dicono vabbè insomma sia fatta la volontà di Dio se è quello che bisogna fare andiamo e buonanotte una domanda già formulata da un altro signore se ha le informazioni in merito al peso in quel momento dei regni industriali e dei servizi segreti inglesi e francesi per capire meglio l'azione ovviamente e la solidarie di ciò che già lei ha detto anche a voi sì gli industriali sono in realtà divisi perché c'è una componente interessata all'economia della guerra e una componente che invece viene rovinata dalla guerra per cui sugli industriali è difficile dire ma non c'è una opinione comune che mette insieme gli industriali hanno una posizione sui servizi segreti insomma è complicato più che servizi segreti all'epoca c'è una diplomazia esasperata e fatta di trattative di discussioni sotto banco di offerte di controfferte che però come dire rientravano nella mentalità della diplomazia dell'epoca la diplomazia è stata probabilmente la vera responsabile dello scoppio della guerra nel 14 nel senso che una serie di comportamenti della diplomazia e degli stati maggiori sono stati tali da come dire far capire che alcuni di questi settori erano interessati a fare la guerra sono diversi studi che sostanzialmente dimostrano che questa guerra che ha fatto 10 milioni di morti è stata voluta realmente da 50-60 persone voluta e spinta e soprattutto nell'ambito della diplomazia c'è questo volume famoso di Ludwig il giornalista sul luglio 1914 che c'è una descrizione impressionante delle dinamiche in queste stanze un po' ovattate di queste figure un po' così tra il dandy e il nonchalance che di fatto alla fine fanno in modo che non si torni indietro gli imperatori come noto tutti i cugini in perfetta confidenza tra di loro verso la fine provano a fare un passo indietro ma non ce la fanno non ce la fanno più perché ormai sono intrappolati in questa dimensione diplomatico stato maggiore che capisce che è arrivato il momento e che è interessata a fare la guerra influenza della masoneria influenza della masoneria la masoneria ha avuto una grossa influenza adesso devono uscire degli studi per verificare più in dettaglio però sicuramente la masoneria ha combattuto per l'intervento in modo piuttosto deciso è stata molto attiva per quello che si sa e quello che si sa pubblicamente poi diciamo l'attività ancora non nota non ho idea però sono convinto che la masoneria è stata una delle agenzie più attive nel far entrare l'italengue allora ricordo che di interventisti e di Cesare Battisti in particolare si parlerà nel prossimo appuntamento che è previsto per il 16 marzo se non vado sbagliando 16 marzo con Stefano che è un esperto di Cesare Battisti grazie a tutti voi e buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti